Gentili telespettatori, buona giornata. Meloni-Mattarella, pranzo segreto riservato al Quirinale. L'incontro di un'ora si temeva che Meloni fosse andata a dare le dimensioni quando i giornali hanno appreso la notizia che lei si stava recando da Mattarella. Le fonti della maggioranza parlano di un incontro cordiale, proprio durante le ore in cui andava in scena lo scontro tra i due vice, Salvini e Tajani. Incontro riservato e segreto, confermano. Meloni è salita in auto al Quirinale e si è chiusa a quattro occhi con Mattarella. Forse hanno anche pranzato insieme, forse. Perché un incontro segreto? La Meloni avrebbe proprio detto, in una conversazione a Tajani, ti avevo detto di non fare così, di smetterla, perché abbiamo già il Quirinale che ci controlla tutte le leggi, che ci sta addosso. Quindi dopo che la Meloni avrebbe detto questo, e la notizia è venuta fuori sui giornali, lei che sale da Mattarella era abbastanza una notizia inusuale. Quando di solito c'è una nuova maggioranza che si forma perché uno dei partiti vota con l'opposizione, in passato, almeno da più di dieci anni fa, i presidenti del Consiglio andavano a dare le dimissioni. Quindi una Meloni che all'improvviso sale da Mattarella aveva fatto pensare al peggio. Quindi l'incontro è destinato a far notizie, a sollevare interrogativi sulla tenuta del governo. Dopo lo scontro plateale tra Tajani, il portavoce dei figli di Berlusconi, e Salvini, il capo della Lega, i Meloniani hanno lasciato correre in Parlamento sussurri e voci del disagio di Meloni per i rilievi degli uffici giuridici della Presidenza della Repubblica, che hanno costretto il governo a cambiare molte cose all'interno delle commissioni parlamentari. C'è tensione con il Colle, il presidente ci fa le pulci su tutto, non ce ne fa passare una. Vi ricordate che l'altro giorno il PD e Fratelli d'Italia avevano tentato di nascondere dentro un emendamento, dentro una legge, sperando che non se ne accorgesse il Quirinale, avevano nascosto dentro il raddoppio dei fondi, dei soldi per il finanziamento dei partiti. Praticamente si stavano raddoppiando per tutto il Parlamento e per tutti i partiti raddoppio dei soldi destinati ai partiti. Quindi si stavano assegnando circa 22-25 milioni di euro in più. Gli uffici del Quirinale l'hanno scoperto e hanno bloccato tutto, hanno fatto una figura tremenda. A parte questo il Quirinale sta controllando sillaba dopo sillaba ogni legge, ogni emendamento, ogni cosa che fa il governo. E quindi c'è una tensione col Colle. Il Colle sta tenendo sott'occhio questo governo. Perché? Perché? È un governo che viene comunque messo sotto pressione dai fiancheggiatori della sinistra esterni al Parlamento. E Mattarella, in questo ambito, più che un controllore, sembra anche lui uno di quei fiancheggiatori della sinistra che marca stretto il governo con pressioni non indifferenti. Non era mai successo che un Presidente della Repubblica stesse addosso a un governo in questo modo. Mai successo. Perché succede ora? Davvero voi vedete nel governo Meloni un pericolo per la Repubblica italiana? Io onestamente non lo vedo. Sinceramente non lo vedo. Pertanto non riesco a capire che cosa sia e perché ci sia questo pressing da parte di Mattarella. Naturalmente tutti gli attori di sinistra, dopo due anni di governo, non sanno più, come si dice, che pesci pigliare per tentare di mandare a casa questo governo. Non sanno più a quale santo votarsi, come si dice, ma la Meloni dice che non è il momento per dividerci. Avete visto quello che succede intorno a noi. Con chiara allusione al costante pressing del capo dello Stato verso le leggi che fa il governo. L'incontro, come sempre, viene definito cordiale. I due presidenti hanno parlato di tutto e Mattarella avrebbe sottolineato come le obiezioni dei suoi uffici non siano certo politiche, ma squisitamente procedurali. Ma attenzione, anche i magistrati dicono la stessa cosa, anche i politici di sinistra dicono la stessa cosa, anche i conduttori e i commentatori di sinistra dicono la stessa cosa. Non esiste che uno di questi attori di sinistra dica sì, noi vi stiamo addosso perché non ci piacete e quindi facciamo delle considerazioni politiche e usiamo i nostri poteri contro di voi facendo politica. La risposta di Mattarella si chiama telefonata, cioè Mattarella che dice no, ma il Quirinale mica ce l'ha col governo, il Quirinale fa dei rilievi tecnici che farebbe a chiunque. La risposta di Mattarella è ovvia, si chiamano quelle risposte telefonate, ovvie, matematicche, non ci piove che Mattarella doveva rispondere così. Quindi immaginatevi che Mattarella avesse risposto alla Meloni sì, qui noi lo stiamo facendo apposta, vi stiamo addosso perché non ci piacete, quindi noi politicamente cerchiamo di osteggiarvi in tutti i modi. Anche se fosse, Mattarella non potrebbe mai e poi mai dire una cosa del genere. Quindi se la Meloni va da Mattarella e dopo si sente rincuorata perché Mattarella alla fine ha detto quello che speravo, che non ce l'ha con noi, attenzione, attenzione che anche i giudici, quando sentite parlare Santa Lucia che è il capo dell'ANM, lui dice ma noi non ce l'abbiamo col governo, ma ci mancherebbe altro, noi che facciamo politica con le sentenze, ma no, ma così ci offendete, noi siamo imparziali, trasversali, noi guardiamo solo la legge, a noi non interessa di destra e di sinistra. Quindi poi a sentirli parlare tu dici, beh magari mi sono sbagliato, eh? Arrivederci a tutti e grazie.